Ghostbusters Legacy. L'ora è giunta, il viaggiatore è giunto a destinazione, finalmente Ghostbusters Legacy è uscito al cinema. Wabalabadabdabe, bentornati su Nomamamazzo, bentornati nella rubrica Ghostbusters, che come sapete questo mese abbiamo cercato di tenere viva anche parlando un po' di Ghostbusters Afterlife, appunto dei fumetti di Ghostbusters. Abbiamo fatto una live su Twitch, anche con Pelati e Fumetti, in cui abbiamo parlato persino del reboot e di tutti i motivi per cui non può piacere a un fan duro e puro della saga. Il più importante è il fatto che non è ambientato nell'universo dei Ghostbusters, ma in un altro universo parallelo, se così vogliamo dire. E adesso, finalmente, parliamo di Ghostbusters Afterlife. Ghostbusters Afterlife, che è il titolo originale, Ghostbusters Legacy, titolo italiano, dove appunto non è nascosto in nessun modo, si parla dell'eredità di Ghostbusters. In tutti i sensi si parla del lignaggio di Ghostbusters, tant'è che il film è totalmente incentrato su dei ragazzini. Vuoi anche perché si sta cavalcando l'onda della nostalgia degli anni Ottanta, perpetuata da dei bambini che ha portato Stranger Things, che tra l'altro nella seconda stagione ha omaggiato apertamente Ghostbusters. E quindi su questa scia hanno pensato di orientare il target del film. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che vedono spiriti, spiritelli o fantasme e di commentare qui sotto con quello che venne apparso di questo film e se vi aspettavate qualcosa di diverso o se siete rimasti soddisfatti e perché. Seguitemi anche sugli altri miei social, appunto tra cui Twitch, dove appunto ogni tanto faccio magari delle live di approfondimento sul film. Io su questo film farò sicuramente una live di approfondimento, perché dal momento che sono abbastanza invasato di Ghostbusters, spero di stare nei 10 minuti, 15 minuti al massimo per questo video e poi sfogarmi su una live su Twitch, quindi seguitemi anche lì. Nell'ultimo video che ho fatto, in cui parlavo appunto di Ghostbusters Legacy, mi domandavo se fosse necessaria una pellicola del genere a distanza di così tanti anni da Ghostbusters 2. Ovviamente la risposta è no, un film del genere non è necessario. Noi fan duri e puri di Ghostbusters ci abbiamo messo una croce sopra da tantissimo tempo sul fatto che un Ghostbusters 3, come speravamo di vederlo, non lo avremo mai, tant'è che ci hanno dato nel 2009 un contentino che, di tutto rispetto, che è Ghostbusters the Video Game, ambientato nel 1991, due anni dopo Ghostbusters 2, che riprende le vicende di Ivo Shandor e di Godzer. E proprio su questa falsariga anche Ghostbusters Legacy vuole riprendere le vicende di Ivo Shandor e di Godzer. Ma non siamo più neanche nella condizione di avere dubbi sul fatto che questo film non sia necessario, ma è sicuramente catartico, mi spiego meglio. Questo film sancisce fondamentalmente una chiusura della saga principale di Ghostbusters. Poi noi possiamo continuare a leggere qualunque cosa, a vedere qualunque format su Ghostbusters, qualunque vicenda che può essere successa in questi lunghi anni, in questi trent'anni che nessuno ci ha mai raccontato, ma quantomeno siamo soddisfatti dal punto di vista cinematografico. non pretenderemo più di vedere un Ghostbusters 3, perché finalmente ce lo hanno dato al cinema. Quindi chiaramente è un film fuori tempo massimo, e lo dico da fan, ma ciò nonostante serve a dare una chiusa. Si, come si dice, si compiange parecchio Harold Ramis, il personaggio di Egon Spengler. francamente non pensavo così tanto, ma non lo sto dicendo in senso negativo, anzi, pensavo che, so come ragionano a volte gli americani, che per rispetto dell'attore a volte non toccano quasi nemmeno il personaggio, come per esempio il personaggio di Joker in Dark Knight Rises, ok? Qua invece, forse anche per il fatto che il cast, la crew, la troupe era una famiglia, una seconda famiglia per Harold Ramis, quantomeno professionalmente, hanno osato omaggiarlo molto, e questo omaggio è molto più apprezzato che non un ah sì, mio nonno è morto, amen, andiamo avanti. L'ho preferito molto così, anzi, è stata una felice sorpresa, e questo, diciamo, commiato ad Harold Ramis e al personaggio di Egon Spengler sono stati una giusta chiusura del franchise, quantomeno del franchise anni Ottanta. Poi, se volessero continuare con questi nuovi ragazzini, se prima non ne ero sicuro assolutamente, qua invece mi hanno convinto, su tutti ovviamente il personaggio di Phoebe, interpretato da McKenna Grace, che è una perfetta Egon Spengler in miniatura. Mi piacerebbe vedere lei, ma anche gli altri tre, che aiutano magari un... tra qualche anno, quando saranno cresciuti, mi piacerebbe vedere che riprendono l'attività dei Ghostbusters a New York. Come dicevo, è stata una sorpresa vedere quanto è stato un commiato a Egon Spengler questo film, non posso dire tanto nella parte non spoiler, ma è stata invece una felice conferma quello che si è capito sin dai trailer, ovvero che il film è totalmente incentrato su questi ragazzini. Poi ci sono come attori adulti di supporto Paul Rudd e Carrie Coon, che fanno rispettivamente l'insegnante della scuola estiva dei ragazzi e la madre di Phoebe e Trevor, e si percepiva sin da subito che i Ghostbusters originali, per quanto confermati all'interno della pellicola, si sarebbero visti per pochissimo tempo. Quindi non è uno spoiler, si percepisce dal fatto che non compaiono nei trailer, perché altrimenti si sarebbero bruciati quasi, diciamo quasi totalmente, il loro screen time. Ma comunque, ciò nonostante, nonostante questa consapevolezza, siamo comunque andati a vederlo e almeno io sono rimasto soddisfatto, quantomeno non sono rimasto deluso, io me lo aspettavo, perché se ci fossero stati per più tempo per tutta la pellicola, o per la maggior parte della pellicola nel film, mi sarei aspettato di vederli nel trailer. Non avendoli visti nel trailer, so che quello che ho visto, cioè quello che ho visto mi ha soddisfatto fondamentalmente. Il film in un certo senso non nega l'esistenza del videogioco, non nega l'esistenza dei fumetti che l'hanno seguito, possiamo pensare tranquillamente che siano rimasti canonici, come io volevo sperare, e tantomeno non nega le vicende di Ghostbusters 2, ma in un certo senso non li nomina, non ne parla a tal punto che ti viene quasi da pensare quello che alcuni fan dicevano all'inizio, che questo è un sequel del primo film e non tiene nemmeno conto degli eventi del secondo film. Io non credo che sia così, anzi, assolutamente, anche perché non spiegherebbe perché Rey ha l'occultoteca, che vediamo solamente in Ghostbusters 2. Io credo che le vicende siano state tenute presenti tranquillamente, ma non abbiano nominato troppo Ghostbusters 2, perché in patria non ha fatto questo grande successo. Io stesso mi sono chiesto, ma perché la Ecto 1 è ancora la Ecto 1 quando c'è stata la Ecto 1A in Ghostbusters 2? Se voglio essere pignolo, ma tanto so che non si attaccano ai media minori, perché non la Ecto 1B come nel videogioco o nei fumetti? Però, vabbè, è chiaro che per il pubblico generalista, per quanto si possa parlare di pubblico generalista, per un film del genere che è fatto per i fan, non avrebbe avuto lo stesso impatto visivo vedere l'Ecto 2 piuttosto che l'Ecto 1, che è più iconica. Poi noi sappiamo, se siamo davvero dei fan accaniti, che col tempo l'estetica dell'Ecto 1A è tornata gradualmente all'estetico originale dell'Ecto 1, e quindi, per quanto ne sappiamo, nei fumetti ce lo hanno mostrato gradualmente l'Ecto 1A è tornata ad avere l'estetica dell'Ecto 1, quindi ci sta tranquillamente. Noi sappiamo che all'incirca i Ghostbusters sono stati in attività per diversi anni. Egon Spengler si è trasferito in questa cittadina all'incirca dieci anni prima delle vicende narrate, se non sbaglio. Quindi c'è stato tutto il tempo di restaurare nuovamente l'Ecto 1, tanto che, vediamo nel trailer, ci hanno messo anche un sedile eiettabile per omaggiare, credo, anche i giocattoli. Ci hanno costruito fondamentalmente una botola per poter calare la trappola su ruote, sempre che vediamo nel trailer, e non sto spoilerando, e quindi ha senso che l'Ecto 1 sia tornata a quella delle origini. Quindi, che dire, posso consigliarvi questo film? Ma ovvio che vi consiglio questo film, sono un fan, non posso dirvi non guardate questo film. Posso dirvi di non aspettarvi un Ghostbusters ripetuto per una terza volta, perché Ghostbusters e Ghostbusters 2 sono un po'... seguono la stessa linea narrativa. Qua, invece, il film segue una linea narrativa totalmente diversa. È come una lunga introduzione, tipo Dune, è come una lunga introduzione a questi personaggi che stanno scoprendo le origini del nonno di Phoebe per poi andare all'atto finale. Diciamo che è una introduzione dei personaggi, c'è una parte centrale molto breve, e poi c'è un atto finale. Ed è costruito volutamente così proprio perché... cioè, proprio perché gli attori principali si sono prestati, chiaramente, per poco tempo, e giustamente li vediamo in due scene, di cui una è quella finale. Quindi non vi aspettate chiaramente New York, come si è vinto dal trailer, non vi aspettate un Ghostbusters copia in colla per la terza volta, è tutta un'altra cosa. Vorrei quasi chiamarlo uno spin-off, ma in realtà no, perché prosegue davvero tanto la trama, soprattutto del primo film. Quindi guardatelo con gli occhi di un bambino che aspetta da tanto un giocattolo, che finalmente, dopo 30 anni, è arrivato. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto. Probabilmente farò un altro video, magari tra qualche giorno, totalmente spoiler e citazionistico, dove vi aiuterò a trovare tutti gli easter egg della pellicola, se per caso non li avete già trovati. E magari faremo anche una live su Twitch, dove parleremo, spoiler e non spoiler, faremo una bella live lunga, dove ci sfogheremo. Non mancano certo i difetti, io alcuni difetti li ho trovati proprio anche a livello di inquadrature, quando si tratta di guardare i protagonisti, non i protagonisti, le star che attendevamo con ansia. Le inquadrature non mi sono piaciute molto, in quel caso, ma è proprio una roba tecnica, però, ecco, gli avrei dato più risalto con le inquadrature, ma sicuramente è stato tutto un escamotage per poterli sfruttare al meglio. Ancora grazie, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video.